Assolto dalla Corte d'Appello di Catanzaro, il presunto boss Pantaleone Mancuso, detto l'ingegnere, è condannato il figlio Giuseppe Salvatore Mancuso nel processo di secondo grado. L'accusa faceva riferimento al duplice tentato omicidio aggravato dalle modalità mafiose ai danni di Romana Mancuso, zia degli imputati, e del figlio della donna Giovanni Rizzo, compiuto nel maggio del 2008 nelle campagne tra Nicotera e Limbadi. Per come è emerso dalle indagini, il tentato omicidio faceva riferimento ad una guerra intestina al clan di Limbadi per il presidio del potere. In primo grado il GUP distrittuale di Catanzaro aveva assolto padre e figlio dalla contestazione aggravata dalle modalità mafiose. Successivamente la Corte avrebbe invece riconosciuto la responsabilità del giovane condannandolo a otto anni di reclusione.